Ben ritrovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Cesare Martignan. In FIPILI per lavori si viaggia in Cora a tratti tra Ginestra e Empoli Est in entrambe le direzioni. Segnalata Cora in uscita la Strassigna provenendo da Firenze. Rallentamenti tra la Strassigna e Firenze Scandici in direzione Firenze. Cora tra Lastra e Montelupo verso Livorno. Lo svincolo di Montelupo resta chiuso in entrata in entrambe le direzioni e in uscita in direzione mare. In A1 verso Bologna Cora tra Firenze in Pluneta e Firenze Nord e Cora verso Roma tra Firenze Sud e in Cisareggello. Cora in ingresso in A11 verso Pisa sia da Roma che da Bologna nel bivio A1 a 11 Firenze Nord. Sulla A12 Cora a tratti per lavori tra Sarzana e Versilia in direzione Sud. In A11 in direzione Pisa traffico rallentato tra Firenze Ovest e Prato Est. Muoversi in Toscana un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!